Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6 che noi oggi apriamo parlando ancora dell'omicidio di Giulianova perché si è svolta ieri l'udienza di convalida dell'arresto di Dante Di Silvestre accusato dell'omicidio di Paolo Cialini. Oggi abbiamo ascoltato l'avvocato della difesa, l'intervista è stata realizzata da Elisa Leuzzo. Come si concilia la vostra ipotesi di omicidio di impeto con le due ferite riscontrate sul corpo di Cialini? Due ferite non sono intanto indicative di una reiterazione e quindi di un omicidio di natura diversa. Noi riteniamo che il colpo sia stato uno al di là delle due ferite e riteniamo soprattutto, circostanza che andrà valutata con particolare attenzione, che l'uso del coltello sia stato tangenziale e non perpendicolare rispetto al corpo del Cialini. Riguardo al primo interrogatorio, noi difensori abbiamo lamentato una carenza piuttosto grave che il primo interrogatorio non sia stato così come doveva essere fonoregistrato e che esista soltanto un verbale di natura riassuntiva. Nel secondo interrogatorio, quello di convalida è tenuto dinanzi al GIP, ripeto, il di Silvestri ha reso una spiegazione che mi sembra sia sostanzialmente conforme allo svolgimento dei fatti. Cosa le ha detto? Conosceva Cialini già da prima? Lo ha escluso. Ha escluso di conoscere Cialini, ha ribadito anche perché la fuga di notizie che si è avuto ha portato a raccontare tutta una serie di notizie false, che lui non ha inseguito il Cialini ma si stava recando da un cliente e quindi ha preso la stessa marcia del Cialini dopo l'incrocio, la stessa direzione del Cialini proprio perché si stava recando da un cliente che abbiamo indicato agli inquirenti e che ascolteremo anche noi in sede di indagini difensive. Adesso il GIP dovrà depositarci tutte le carte che ritiene siano a sostegno dell'ordinanza di misura cautelare che ha assunto. Da quello poi desumeremo le eventuali iniziative, la perizia prosegue intanto, l'eventualità di un ricorso al Tribunale del riesame e l'esame di alcuni testimoni, alcuni li abbiamo già individuati, per fare chiarezza su quelli che si ritengono ma non sono punti oscuri della storia. La sicurezza al centro, questo è il tema del convegno che si è tenuto ieri sera a Palazzo di Città a Pescara e a cui hanno preso parte tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza Marco Minniti, il vice capo vicario della Polizia di Stato Luigi Savina ed il presidente del Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Sala del Consiglio Comunale di Pescara gremita per il convegno organizzato dalla Regione dal titolo La sicurezza al centro, Comuni, Stato e Regioni insieme. Fra i relatori il sottosegretario Marco Minniti, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ed il vice capo vicario della Polizia di Stato Luigi Savina, abruzzese DOC, Minniti non ha nascosto l'importanza del problema immigrazione dicendo che solidarietà e sicurezza sono due facce della stessa medaglia. La lotta alla povertà è uno degli elementi fondamentali per le politiche di sicurezza cioè c'è un intreccio tra tutte queste questioni. È importante che in una piazza ci sia una macchina delle forze dell'ordine ma è anche tanto importante che quella piazza sia illuminata. Le forze dell'ordine li manda il Ministero dell'Interno, la piazza illuminata ci pensano i sindici in collaborazione con gli enti regionali. Noi dobbiamo costruire questa idea, è un'idea moderna e a mio avviso non solo è un'idea moderna ma soprattutto è un'idea efficace. Il vice capo della Polizia Savina ha parlato del suo Abruzzo come di una regione abitata da gente per bene dove per questo la malavita non è riuscita ad attecchire. Non passa perché questa è una regione fatta di persone per bene, di persone strutturate, di persone che rispettano le regole e perché sono brave, come senti le forze dell'ordine, non soltanto la Polizia ma anche i carabinieri, anche la Guardia di Finanza. La squadra dello Stato qui è altamente efficiente. Legge deve essere sinomino di giustizia. Ancora cronaca con l'ennesimo incidente mortale accaduto sulle nostre strade. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici quando ha perso il controllo del suo scooter Booster 50 che è andato a finire contro un palo in via Sisto nella zona nord di Vasto e morto così per le gravi ferite riportate. Nell'impatto un vigile del fuoco di 41 anni, Giuseppe Crisci, i soccorritori del 118, subito arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Crisci prestava servizio nel distaccamento dei vigili del fuoco di Vasto in via Madonna dell'Asilo dove oggi è giornata di lutto. Ancora cronaca, ci spostiamo a Teramo perché è stata ritrovata verso le 8 nelle campagne dove la stavano cercando da diverse ore. La 22enne che ieri si era allontanata da casa impugnando un coltello e minacciando il suicidio. La vista è seduta sotto un albero un agricoltore al lavoro sul suo terreno con il trattore ed ha subito chiamato i soccorritori. La giovane è in buone condizioni di salute ma confusa. È stata accompagnata prima in questura dove c'erano ad attenderla i familiari e poi è stata visitata in ospedale dal medico. Per quanto riguarda le ricerche, queste si erano concentrate nelle ultime ore nelle campagne tra Villa Vomano e Miano e attorno alla specola anche con l'aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco provenienti da Pescara. Lasciamo la pagina della cronaca perché domani si tornerà al voto nella nostra regione per i ballottaggi. Oggi giornata di silenzio nei quattro comuni dove si deve ancora scegliere il sindaco che amministrerà nei prossimi cinque anni. Secondo turno previsto, lo ricordiamo, a Lanciano, Vasto, Sulmona e Roseto degli Abruzzi comuni che TV6 seguirà con collegamenti in diretta all'interno del suo speciale elezioni in onda da domani sera a partire dalle 22.50. Ma vediamo il servizio di Alfredo Primante che fa il punto proprio su questi ballottaggi che si terranno domani nella nostra regione. Sono quattro i comuni abruzzesi chiamati domani dalle 7 alle 23 a scegliere il proprio nuovo sindaco nel turno di ballottaggio che chiude la tornata delle amministrative 2016. Elettori al voto a Sulmona, Lanciano, Vasto e Roseto, tutti comuni sopra i 15.000 abitanti in cui è previsto il doppio turno. A Sulmona la sfide tranna Maria Casini, candidata di un raggruppamento civico, e Bruno Di Mascia, la guida di una coalizione di centrosinistra parentata in questo secondo turno con Forza Italia. Dal primo turno è uscita in vantaggio Anna Maria Casini, che ha ottenuto il 44,75%, contro il 26,16% di Bruno Di Masci. A Lanciano chiede agli elettori un secondo mandato il sindaco uscente, candidato del centrosinistra, Mario Pupillo, in vantaggio al primo turno con il 39,46%. A sfidarlo sarà Enrico D'Amico, candidato di centrodestra, attestatosi al 37,86%. In questo secondo turno D'Amico si è apparentato con l'altro candidato del centrodestra, Tonia Paolucci, che al primo turno aveva ottenuto il 22,66%. Campagna elettorale rovente in Frentania, caratterizzata anche da gravi episodi di violenza, con l'aggressione a Nico Barone, leader di Casa Pound, partito neofascista, inserito nella coalizione di centrodestra. A vasto si sfidano Massimo Desiati, centrodestra, in vantaggio dopo il primo turno con il 34,27%, e Francesco Menna, centrosinistra, che ha ottenuto il 33,30%. Qui nessun apparentamento, ma solo l'appoggio dei centristi di Montemurro al candidato della sinistra. Appoggio esterno anche a Roseto, dove Sabatino Di Girolamo ha incassato il placet della coalizione centrista di hashtag Amoroseto di Rosaria Ciancaione. Di Girolamo è in vantaggio dopo il primo turno con il 35,95%, rispetto al 34,90% del sindaco uscente Ennio Pavone, candidato del centrodestra. Su TV6 appuntamento domani a partire dalle 22.50 per seguire tutte le fasi dello scrutinio, con collegamenti in diretta dai quattro comuni al voto. Parliamo ora di politica sindacale, una giornata di festa, ma anche di riflessione per parlare di lavoro, voucher e della ripresa economica. Di questo e di tanto altro si parlerà nella giornata di oggi, lo faranno gli esponenti della CGL al Marina di Pescara, presso le aree ex COFA. Un momento importante perché anche in un territorio come quello abruzzese, in particolar modo nella città di Pescara, credo che continuare a parlare anche con gli interlocutori del territorio, con tutte le parti sociali, con gli imprenditori e con le associazioni, di un punto importante che può rappresentare lo sviluppo anche di questo territorio, come il turismo, è un dato che non dobbiamo ovviamente sottovalutare. La condizione di questi anni, in particolar modo del 2015, con un boom allarmante dell'utilizzo ad esempio dei voucher, dà la misura di come è ancora importante invece concentrarsi sulla idea di qualità del lavoro e di quale reale prospettiva di non precarietà possa essere data anche nel settore turismo e non solo ai tanti giovani e meno giovani. In questa giornata qui al Marina di Pescara c'è anche la possibilità di firmare per i tre referendum abrogativi sul lavoro? Soprattutto è importante perché questi tre referendum sono a supporto della Carta Universale dei Diritti, quindi una proposta di legge con cui rimettiamo al centro il lavoro e la qualità del lavoro e dove crediamo che per i cambiamenti che sono intervenuti nel mondo del lavoro negli ultimi decenni c'è bisogno di ricostruire un reticolato di tutele e di diritti universali che valgano innanzitutto per le persone, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro che queste persone hanno. E noi ci spostiamo a Teramo dove l'amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la vendita degli immobili comunali tra i beni e alcuni appartamenti nuovi che si trovano in centro storico. Il comune di Teramo cerca di fare cassa e mette in vendita degli immobili tra cui anche degli appartamenti in centro storico? Sì, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio dell'ente oggi viene pubblicato un bando in cui appunto sono messi in vendita otto lotti fra i quali un'area edificabile in via Lebovio, la scuola di via Antonelli, alcuni appartamenti e locali in centro storico, dei locali commerciali a Colleparco e il tutto per un ammontare di 1 milione e 200 mila euro. Lì le offerte scadono il 20 luglio alle ore 12, il 21 poi invece verranno aperte le buste. Quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati all'acquisto di questi beni a presentare le domande con le modalità che sono indicate nel bando pubblicato sul sito entro il 20 luglio alle ore 12. Ed è operativo e già al lavoro da circa 10 giorni il commissario prefettizio del comune di Tortoreto, Francesco Tarricone, nominato dall'allora prefetto di Teramo, Walter Crudo, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ovviamente la speranza è che la gestione commissariale, che è sempre un momento straordinario, un momento traumatico anche se vogliamo, perché è giusto, lo ripeto sempre, in tutte le circostanze che le comunità siano amministrate da persone del luogo elette democraticamente, pur tuttavia quando accadono avvenimenti come quello che è accaduto qui a Tortoreto con lo scioglimento del Consiglio, a Tortocollo c'è la gestione commissariale e se il commissario nell'anno, perché questo è il periodo che mi toccherà gestire, può proseguire l'opera dell'amministrazione e perché no apportando anche correttivi e miglioramenti sempre nell'interesse della comunità benvengano. Dal punto invece di vista della stagione ho da subito avallato perché ho condiviso evidentemente il calendario degli eventi della stagione per cui ho adottato la delibera dopo e spero che i mesi soprattutto di luglio e di agosto siano vissuti alla grande con avvenimenti che possono portare movimento, gioia, contentezza di vivere l'estate però anche, contemperando, e qui ci tengo a dirlo, il momento di riposo meritato che soprattutto i villeggianti, quelli che scelgono Tortoreto come luogo per fare le proprie vacanze debbono anche essi vivere. Crescono i nuovi poveri in Abruzzo e soprattutto nel Pescarese sono sempre più le persone in difficoltà che si rivolgono alla Caritas Diocesana di Pescara Penne e in estate ci sono problemi anche per gli anziani che restano soli. Don Marco Pagnello si va verso l'estate, i problemi a Pescara e anche in provincia aumentano per quanto riguarda i senza tetto, i poveri, le persone in difficoltà. La Caritas continua in questo lavoro quotidiano davvero enorme, situazione comunque difficile. La Caritas sicuramente non va in ferie, così come non vanno in ferie tutte le realtà associative caritative della città, della diocesi, perché proprio in estate abbiamo un aumento di povertà perché da una parte abbiamo i rumeni che arrivano sul territorio più massicciamente e quindi le vediamo anche in questi giorni in giro per la nostra città, rovistare nei cassonetti per abbigliamento e ferro. Abbiamo il problema della solitudine che in estate si fa sentire molto di più perché mentre tutti vanno in ferie tanti anziani rimangono da soli, anche tanti badanti e badante sono sul territorio, quindi aumentano i numeri ma aumenta anche la diversità del problema, del fenomeno. Aumentano anche però possiamo dire un po' i volontari che vi danno una mano, insomma vi date da fare grazie anche a tanta solidarietà. Sicuramente, sia solidarietà di tante persone che concretamente vengono ogni giorno a dare una mano ma anche solidarietà rispetto a tante aziende che ogni giorno ci permettono di dare un pasto caldo partendo dal pane, alla carne, alle verdure che possiamo poi servire a chi ha bisogno. Noi torniamo a Teramo dove è riaperta da questa mattina la piscina comunale dell'Acqua Viva, piscina che sarà fruibile per tutti i cittadini dalle 9 del mattino fino a sera. Ha riaperto questa mattina la piscina comunale dell'Acqua Viva qui a Teramo dopo l'apertura, la riapertura tanto attesa della piscina coperta, finalmente anche quella scoperta. Per dare un segnale forte alla città perché è a sostegno della famiglia, di tutte quelle persone che non possono recarsi al mare perché diventa un punto d'appoggio è una soluzione per tutti i genitori che alla chiusura della scuola si trovano in difficoltà perché magari non hanno un punto di riferimento per i loro bambini. Qui si farà campus, qui ci sarà la possibilità di usufruire dei passi, di sopprenotazioni, ci sarà la possibilità di essere seguiti dai bagnini, quindi è un ambiente sicuro e protetto. È importante sottolineare che i prezzi non sono stati aumentati e le tante agevolazioni per esempio per le famiglie numerose. Sì, questa è una cosa importante che il gestore della struttura non ha mantenuto e quindi credo che sia opportuno che i cittadini riscoprano questo spazio e che poi si presta sia a momenti di divertimento ma che è una struttura che può essere utilizzata anche per gare sportive. Apertura grazie all'associazione Asi Teramo. Abbiamo allestito questo compresso sportivo che è una piscina di 50 metri dove si possono fare anche attività agonistiche. Infatti lunedì sera abbiamo una partita di pallannota con il remaster di Pescara. L'ingresso è unico e ci si può stare tutto il giorno con il costo di 5 euro. Ai bambini sotto a tre anni è gratis, speriamo che il tempo ci assista e anche quest'anno possiamo riconvermare una buona riuscita di questa magnifica struttura. E questa mattina all'Aurum di Pescara si è tenuto un convegno a cura dell'Assipan Conf Commercio per parlare del pane fra tradizione e modernità. In Italia il consumo di pane negli ultimi anni è crollato del 55%. Si parla di pane oggi a Pescara in questo convegno dell'Aurum. Pane tra tradizione e modernità, ma il pane, il caso di dire, dintino, non passa mai di moda? Beh, ultimamente sta passando un po' di moda. Questo è uno dei problemi per quale abbiamo dovuto fare anche questo convegno perché il pane considerato il re della tavola ultimamente sta diventando il povero della tavola. E per questo motivo vogliamo cercare di risvegliare il pane che sta seguendo anche la modernità. Cioè nel senso che i pani stanno cambiando, si sta andando verso i pani che hanno un contenuto di carboidrati più bassi. Nel caso mio specifico stiamo facendo anche degli studi per quanto riguarda un pane glicemico che quindi possa andare incontro alle esigenze di chi soffre di diabete. Stiamo riscoprendo dei pani con un maggiore contenuto di fibra. Però la realtà è che il consumo di pane negli ultimi anni è sceso del 55%. Ogni regione ha un pane particolare. Il pane abruzzese, Dintino, per esempio, da cosa si differenzia rispetto agli altri pani? Diciamo che il pane della tradizione abruzzese è un pane che doveva seguire le esigenze dei contadini, del greggio, della pelle. Quindi è un pane di formati grandi, di formati grossi dove c'era contenuto pane di lievito pasta di riporto, lievito madre e quindi dava la possibilità di rimanere, di reggere una settimana, dieci giorni perché doveva essere portato dietro. Veniva fatto una volta a settimana. Sono queste dimensioni, queste dimensioni, oggi giorno non si sposano più con l'esigenza di vita che abbiamo e con la vita frenetica. Però la caratteristica nostra è proprio questo, è un pane di dimensione, un pane cosiddetto pane cafone. Nel caso invece specifico di Pescara era ed è ancora il cuscinetto che è un prodotto particolare che si sposava molto con il pesce. Parliamo ora di eventi perché sabato 25 giugno si terrà la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. Doppio appuntamento a Civitella del Tronto e Castelli per festeggiare l'arrivo del solstizio d'estate tra mostre, concerti e spettacoli pirotecnici, cene tematiche, rappresentazioni di danza e teatro. Tutto in una notte che promette di celebrare l'amore e la bellezza in tutte le loro forme tra piazze, vicoli, palazzi e scorci suggestivi dei due caratteristici borghi terramani. Il programma è ricco e concentrato in qualche ora diciamo, partirà dalle ore 18, quindi questa famosa notte romantica a livello nazionale che abbiamo accolto a Civitella come in tutti gli altri borghi più belli d'Italia. Partirà appunto dalle 18 con una visita guidata del bellissimo borgo di Civitella per poi alle 19.15 sempre all'interno del borgo, diciamo in un palcoscenico naturale sempre del borgo, ci sarà questa lettura scenica di Vanessa Dezzi tratta da un romanzo di Gabriel Garcia Marquez. Per poi dopo passare alle cene a tema organizzate dai ristoranti del borgo, in Fortezza ci sarà alle 20.20 il gruppo Sitaranta che faranno dei balli molto caratteristici all'interno sempre della prima piazza, la piazza del Cavaliere della Fortezza, per poi dopo di che passare alla Compagnia dei Folli. I primi passi sui trampoli li abbiamo fatti a Civitella nella bellissima Fortezza, quindi ritornare a Civitella in questa occasione della notte romantica per la Compagnia dei Folli è un'emozione doppia perché ritorniamo nel luogo dove siamo cresciuti e dove abbiamo spiccato il volo, quindi sarà emozionante per noi e spero anche per il pubblico che verrà a vederci. Noi dell'Associazione La Piazzetta siamo davvero lieti di far parte di questo progetto e quindi ringraziamo il Comune di Civitella del Tronto ma soprattutto la Fondazione Tercas, questo per noi è solo l'inizio di un progetto che vorremmo realizzare in futuro a Civitella del Tronto e cioè un festival medievale che durerà più giorni. Siamo alla pagina dello sport, del calcio in particolare per parlare del Pescara che prosegue la ricerca di giocatori da inserire nell'organico in vista del prossimo campionato di Serie A, si attende per le prossime ore, probabilmente per i primi giorni della prossima settimana l'epilogo della telenovela La Padula. Il Napoli di Maurizio Sarri resta in pole position ma nelle ultime ore è spuntata la pista Empoli via Juventus. La difesa è invece quasi al completo. Andrea Costantini. La sempre più probabile cessione di Gianluca La Padula e Gianluca Caprari al Napoli rappresenterà un cardine del mercato del Pescara. Da un lato perché la società potrà monetizzare con una cifra sui 12 milioni di euro, poi perché sarà più chiaro quello che sarà lo scenario del mercato con Caprari destinato a restare in biancazzurro per un'altra stagione in prestito e la società che potrà concentrarsi sulla sostituzione del capo cannoniere della Serie B. La trattativa con Napoli è sostanzialmente fatta ma resta sempre soggetta alla reale volontà del calciatore e su quella fanno leva le altre pretendenti come Genoa e Sassuolo che possono offrire alla Padula un ruolo da assoluto protagonista. Non demorde neanche la Juventus che secondo le ultime voci starebbe ancora lavorando per prendere la Padula e girarlo in prestito all'Empoli dove il neotecnico Martuscello lo accoglierebbe a braccia aperte. La destinazione Napoli, ottimale per le casse del Pescara, fa riflettere la Padula sul fatto di avere davanti un mostro sacro come Iguain senza dimenticare tutto il resto del parco attaccante a disposizione di Sarri. La necessità a 26 anni è debuttare in A, giocare e segnare con continuità. Ad inizio della prossima settimana il bomber potrebbe porre fine a qualsiasi riflessione, rompere gli indugi e mettere nero su bianco. A quel punto il presidente Sebastiani darà la caccia al nuovo centravanti. Resta molto calda l'ipotesi Marcello Trotta che arriverebbe in prestito dal Sassuolo in una squadra pronta a dargli massima fiducia. Al DS Inpectore Leone non dispiacerebbe riavere alla sua corte Gaetano Monachello dell'Atalanta, già valorizzato due anni fa a Lanciano. Detto dell'attacco il Pescara cercherà un portiere da affiancare a Fiorillo, riscattato dalla Juventus, e andrà assortito un centrocampo che ha perso quasi tutte le sue pedine essenziali, tranne Meuschai. La priorità è riavere in rival adriatico Berre e Mandragora, sempre nell'ottica di tenere il più possibile compatto l'organico della promozione. Nel caso bisognerà sedersi con Udinese e Juventus per trovare un'intesa. Con la conferma di Crescenzi è sostanzialmente a posto la difesa che potrebbe essere puntellata con l'innesto del terzino Biraghi di proprietà dell'Inter. Da valutare Andrea Coda per la sua esperienza in A farebbe molto comodo a Massimo Oddo, ma resta da capire se sia un giocatore su cui poter contare, alla luce dei tanti infortuni riportati in questa parte di carriera. Due giorni di festa fra musica, balli e sport nell'area ex Cofa per i 40 anni dello storico club Pescara Rangers. Ieri sera ospiti della manifestazione il presidente Daniele Sebastiani e i calciatori Fiorillo e Vitturini. Questa sera spazio alle vecchie glorie e agli ex giocatori del Delfino. È iniziata ieri pomeriggio, si concluderà questa sera la due giorni di festa organizzata nell'area ex Cofa del Porto Turistico per celebrare i 40 anni dei Pescara Rangers, uno dei club storici della Curva Nord. Un traguardo importante per il cuore del tifo pescarese, club nato nel 1976 e da allora sempre presente allo Stadio Adriatico in tutte le trasferte che hanno accompagnato il Delfino sin dalla sua prima storica promozione in Serie A. Tra birra, arrosticini e tanta buona musica, diversi protagonisti dell'ultima promozione non hanno voluto mancare l'appuntamento. Mescolati ieri sera con i supporters biancazzurri c'erano anche Vincenzo Fiorillo, Vitturini, Ventola, Aldegani, oltre al presidente Daniele Sebastiani che nella circostanza ha promesso un trattamento di riguardo ai fedelissimi del Pescara in vista della prossima campagna abbonamenti in partenza ai primi di luglio. Poi tutti sul palco per la consegna di targhe e riconoscimenti, oltre ad una bella pergamena realizzata per l'evento e l'impegno a portare sempre più in alto i colori biancazzurri. Questa sera è previsto il gran finale con la sfilata sul palco delle vecchie glorie delle Pescara e collegamenti video e audio con grandi personaggi di un recente passato che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio pescarese che quest'anno compie 80 anni di vita. E ora parliamo di Lega Pro nel servizio di Andrea Costantini, andiamo a vedere le novità di mercato che riguardano le due nostre formazioni ovvero Virtus Lanciano e Teramo. Teramo e Virtus Lanciano, le prossime due rappresentanti abruzzesi di Lega Pro si trovano a due stadi diversi della preparazione della prossima stagione. Sicuramente più avanti è il Teramo che ha avuto modo di fare in tempi congrui tutti i vari passaggi per avvicinarsi alla nuova stagione. Prima il nuovo direttore sportivo nella persona di Fabio Lupo, a fine campionato l'epilogo della gestione tecnica di Vincenzo Vivarini, eventualità di fronte alla quale la società si è fatta trovare pronta, scegliendo in pochi giorni il sostituto Lamberto Zauli. In questi giorni Lupo è al lavoro, a ritmi serrati per l'allestimento della Rosa, risolto il contratto con Diego Cenciarelli. Il prossimo della vecchia guardia a salutare sarà Stefano Amadio. Non è ancora detta l'ultima per il difensore Stefano Scipioni, che non è certo l'asciteramo. Lupo farà il possibile per trattenerlo. Intento che sembra essere andato a buon fine per il capitano Ivan Speranza, che resterà al pari dei vari Petrella, Di Paolo Antonio, Caidi e Dorazio. Altra incognita quella legata al portiere Tonti. Sul fronte dell'entrata è fatta per la mezzala Carlo Ilari, ex Sant'Arcangelo, ma di proprietà della Juventus. A buon punto la trattativa per l'attaccante Antonio Croce, ex Celano e Colonia Paese. Intanto è ufficiale la sede del ritiro. Sarà Ovindoli, nell'Aquilano, dal 13 al 28 luglio. Sul fronte societario, dopo l'addio di Giuseppe Daniello, il CDA si riduce a due componenti. Presidente Luciano Campitelli, vicepresidente Ercole Cimini, che assume anche la carica di amministratore delegato. Situazioni invece tutte da definire in casa Virtus Lanciano. La retrocessione ha lasciato Scorie e la famiglia Maio è in una fase di riflessione per capire se, ma soprattutto come, ripartire. La Rosa al momento è ridotta ai minimi termini. Si potrebbe ripartire dai veteraneamente Bastola e i portieri Casadei Aridità. Andrà sicuramente via il gioiellino Federico Di Francesco, che farà fare cassa con la sua gestione alla Juventus, che poi lo girerà al Bologna. Non c'è ancora l'ufficialità, ma si è conclusa l'era Luca Leone e la casella del DS va riempita. Sono filtrati i nomi come Ivantisci e Alessandro Battisti, ma è in ascesa l'ipotesi Matteo Materazzi, fratello dell'ex difensore dell'Inter Marco. Materazzi, da consulente, potrebbe affiancare Claude Di Meno di Bucchianico, che ricoprirebbe la carica di DS. Poi la scelta dell'allenatore, che prenderà il posto di Primo Maragliulo, il quale, quasi certamente, non resterà in Frentania. E a proposito di Teramo, avete sentito nel servizio di Andrea Costantini, dell'arrivo di Ilari, è arrivata l'ufficialità proprio pochi minuti fa sul sito ufficiale della Teramo Calcio. Leggiamo testualmente la notizia. La società sportiva Teramo Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Carlo Ilari, classe 91. Il primo colpo in entrata del mercato bianco-rosso ha firmato questa mattina un contratto di natura biennale. Il calciatore nativo di Ancona ha iniziato la sua carriera ad Ascoli Piceno, trasferendosi poi nella primavera della Juventus. E questa era l'ultima notizia per la nostra prima edizione del TG6. Vi ricordo le prossime edizioni come sempre alle 19 e alle 23. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie.